Le autorità, l'AMA e l'assessore all'ambiente hanno detto che i rifiuti ospedalieri erano contenuti dentro all'impianto e sono stati puliti. In realtà abbiamo trovato, insieme ai cittadini, questo campo qui vicino che è completamente invaso di rifiuti ospedalieri e rifiuti tossici, come vedete. Ci sono siringhe, rifiuti ospedalieri, quindi la situazione è di disastro ambientale, altro che tutto sotto controllo. Grazie a tutti.